Vidi la nuova Gerusalemme, come scosta la monta, i scemele tancero, per ii suzko zon. Sto i scezulta, Viglia visdì un Vem crei Signore, E in vento a te Tu salvatore O vende il Santo Cristo E in vento a te Vidi la tua pace russa a te O vende il Santo Cristo E in vento a te 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 E in vicennio E in vento a te Subite la potenza della Cristina. 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 Grazie a tutti. 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 Palavra di Dio. Rendiamo grazie a tutti. 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 Il Signore appartiene Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te o Signore Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Alleluia, 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 Alleluia. Carissimi, la divina liturgia di questa quarta domenica di Pasqua, detta del Buon Pastore, è in coincidenza con la conclusione del quarto convegno internazionale Luisa Piccarreta, dal tema Chiesa nel Divin Volere. I testi scritturistici ci parlano di Gesù, Buon Pastore, il Bel Pastore. Questa immagine sembra comunicare con immediatezza molti aspetti della vita cristiana. Innanzitutto, la sollecitudine del Signore per il suo popolo, sul quale vigila, e che conduce ai pascoli migliori, con un richiamo qui al Salmo 22. Il Signore, il mio Pastore, non manco di nulla. Gesù è il Pastore che dà la vita per le pecore, a differenza del mercenario, e si oppone al lupo che può giungere e rapire e disperdere le pecore. Il Signore assume qui, in prima persona, e nel modo più proprio e sommo, il ruolo che gli stesso demanda ad alcuni, perché in sua vece e amministrando la funzione che spetta a lui solo, si occupino del grege. Nella Chiesa sono costituiti così molti pastori, e innanzitutto i Vescovi, nel cui nome si distingue la radice del verbo greco che significa vegliare, proteggere. Il loro carisma sarà quindi di condurre il grege e di prestare attenzione affinché non si disperda, custodendolo dai lupi. Ancora una volta possiamo osservare come il mistero dell'Incarnazione che si realizza nel Fiat di Maria, in forza del Capo, il Verbum Caro, prosegue per il suo corpo mistico che è la Chiesa, il Fiat di noi membra del corpo di Cristo. È nella Chiesa che continua il mistero di mediazione attraverso l'umanità, che è il modo che Dio ha scelto per salvare gli uomini. Caro Cardis Salutis. L'unico buon pastore è presente nella mediazione della Chiesa. In altri pastori sono costituiti a guidarla affinché gli uomini distanti nel tempo e nello spazio della vita terrena del figlio incarnato possano comunque incontrarlo attraverso questa, per così dire, incarnazione continua. E quanto potremmo forse ricollegare alle parole di Gesù quando poco oltre afferma che egli è venuto affinché le diverse pecore divengano un solo gregge sotto un solo pastore. La serva di Dio, Luisa Piccarreta, è stata su questa terra dal 1865 al 1947. Celebriamo appunto i 150 anni della sua nascita. È stata membro della Chiesa fedele a Cristo e ai pastori della Chiesa. Ella, nel suo fiat, è stata obbediente sino all'ultimo respiro. L'atto esplicito di sottomissione all'autorità della Chiesa scritto cinque giorni dalla pubblicazione del decreto con il quale la Suprema Congregazione del Santo Ufficio condannava l'indice dei libri proibiti alcuni suoi libri pubblicati nella dimostrazione lampante. Così scrisse Luisa Spontaneamente e prontamente compio il mio dovere di anima cristiana di umiliare la mia incondizionata, pronta, piena ed assoluta sottomissione al giudizio della Santa Romana Chiesa, per cui, senza restrizione alcuna, riprovo e condanno quanto la Sacra Congregazione riprova e condanna nei sopracitati miei scritti pubblicati e nel senso che la medesima Sacra Congregazione intende. Questa mia dichiarazione la umilio egualmente al nostro amatissimo Arcivescovo Monsignor Giuseppe Maria Leo implorando da lui la carità paterna di farla pervenire per il suo tramite al Santo Ufficio. Noi, Chiesa Diocesana di Trani, Barletta, Abiceglie e così tutte le Chiese provenienti da ogni parte del mondo interessate e impegnate a vivere nel fiat al Divin Volere dobbiamo essere uniti e in comunione col nostro unico Capo Gesù Cristo nostro Signore. E questo si realizza attraverso il Ministero dei Pastori delle Chiese Diocesane i quali hanno il compito esclusivo di discernere ciascuno nella propria Diocesi se i gruppi di Luisa Piccarreta o meglio i gruppi che si ispirano al Divin Volere sono conformi alla tradizione della Chiesa Universale alla Divina Rivelazione e al Magistero. Come già vi ho detto nella sintesi del convegno e prospettive dobbiamo tenerci impegnati a lasciarci seguire dai Vescovi propri con docilità e spirito di obbedienza così imiteremo la serva di Dio Luisa Piccarreta e certamente il Signore si servirà di noi per diffondere il suo regno secondo la sua volontà come in cielo così in terra. preghiamo con insistenza perché il Signore permetta che sia glorificata qui in terra la sua serva Luisa Piccarreta per la sua stessa gloria e la salvezza delle anime. Amen. Fratelli e sorelle per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo. siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse del nostro battesimo con le quali abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio! Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio! Rinunziate a Satana origine e causa di ogni peccato? Rinuncio! Credete in Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo e della terra? Credo! Credete in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore che nacque da Maria Vergine morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo! Credete nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo! Dio Onnipotente Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna Amen Fratelli e sorelle Dio nostro Padre con la risurrezione del suo figlio buon pastore ci ha rigenerati ad una speranza viva preghiamo perché ci renda capaci di testimoniare con la coerenza della vita il suo amore senza limiti nelle sofferenze e nelle attese di tutti gli uomini preghiamo insieme diciamo ascoltaci o Signore ascoltaci o Signore we pray for the church that she finds always in the risen Christ the strength to overcome with patience and love the difficulties which she finds on her way and that the church be in the world a sign of his presence through unity and peace let us pray ascoltaci o Signore por el Papa Francisco por los Obispos y por todos los pastores de la Iglesia para que siguiendo el ejemplo de Jesús buen pastor puedan ser punto de referencia para tantas personas privadas de fe y esperanza y para que sean guiadas por el camino justo que conduce a Jesús oremos al Señor ascoltaci o Signore per le famiglie in dificultad e per tutte le persone che si trovano in particolari situazioni di crisi perché Cristo Gesù buon pastore possa rappresentare la via giusta per raggiungere il porto sicuro dove uscire dalle turbulenze della vita con la luce della divina volontà preghiamo ascoltaci o Signore 여기에 함께 모인 우리 모두를 위하여 기도 합시다 하느님의 뜻이 우리에게 남은 삶의 길을 보여주는 지표 가 되게 하여 주시고 우리 삶의 스타일 과 다르게 자기 뜻에 매여 있는 사람들 과 미래 의 아멘 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 dove tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. Se mi grida il tuo amore, paura, dolore, e sempre io sarò, dove tu mi vuoi. E con il Signor vengo a te, mio Re, che si compia in me la tua volontà. E con il Signor vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. Tra le tue mani mai più vacillerò, e strumento tuo sarò, dove tu mi vuoi. Io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò. Questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo onore, mio Re. Dove tu mi vuoi, io andrò. Se mi grida il tuo amore, paura, dolore, per sempre io sarò, come tu mi vuoi. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri, compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Il Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Benevitus Quigreni In nomine Domini Sanctus 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 Dominus Sanctus 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 Dominus Sanctus Sanctus Panem et grazias agens fregit, dedit que discipuli suis dicens, accipite et manducate ecos omnes. Hoc est enim corpus meu quo provobis tradetur. Panem et grazias agens fregit, dedit que discipuli suis dicens, accipite et bibite ec seo omnes. Hoc est enim calics sanguinis mei, novi et eterni testamenti qui provobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Hocco facite in meam commemorazione. Misterium fidei Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Salvatur memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi dominem, panem, vite, et calicem salutis offerimus. Grazias agentes quia nos dignos abuisti astare coram a te et tibi ministrare. Et supplices de precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritu Santo, congregemur in unum. Ricordare, Domine, ecclesiae tue, toto orbe diffuse, ut eam in caritate perfizias, una con Papa nostro Francesco, et Episcopo nostro Ioane Baptista, et universo clero. Memento etiam fratorum nostrorum, qui in spe resurrezionis dormierum, omniunque in tua miserazione defuntorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnimum nostrum quesumus miserere, incumbeata Dei genetris Virgine Marie. San Iosef, suo sponso, beatis apostolis e omnibus sancti, qui tibi ei seculum plaquerunt. Eterna vite mere amor esse consortes, et te laudemus in glorificemus per figlium tuum Iesum Christum. Per ipsum cum ipsum et in ipsum, est tibi Deo Patrio omnipotentim, in unitate Spiritus sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Ame. Preceptis salutarius moniti, et divina instituzione formati, audemus dicere. Patre nostre, qui esi in Cereis, sanctificet ur nome Tum, adveniat regnium Tum, fiat voluntas Tua, Sicut in Cereis, sanctificet ur nome Tum, fiat voluntas Tum, fiat voluntas Tum, fiat voluntas Tum. Sicut in Cereis, sanctificet ur nome Tum, fiat voluntas Tum, fiat voluntas Tum, fiat voluntas Tum, fiat voluntas Tum. Utope misericordia e Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et abomni perturbazione securi, expettantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia Tum est regnium, et potestas, et gloria in secula. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea maddo vobis, nere spicias peccata nostra, sed fidem ecclesie Tue, e anque in secundum voluntateme Tua, pacificare et quadunare digneris. Quia vivis et regnias in secula securorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis cum. Et cum spiritus moro. Offerte vobis pacem. Pax Domini sit semper vobis cum. 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 Come vuolo il Signore, Beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui, Clemete il Signore e i suoi santi, Nulla manca a coloro che lo temono. Benedirò il Signore in ogni tempo, Sulla mia bocca la sua lode, Io mi glorio nel Signore, Ascolti gli umili e sigla, Rallegri noi. Gustate e vedete come vuolo il Signore, Beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui, Clemete il Signore e i suoi santi, Nulla manca a coloro che lo temono. Cele d'arte con me il Signore, E salviato in sé del suo nome, Non c'è fratto il Signore, Nella manca a coloro che lo temono. Guardate a lui e sarete raggianti, Non c'è fratto il Signore, Guardate a lui e sarete raggianti, I suoi santi, Il Signore che lo richiede, Il Signore ascolta il povero, Il suo rifugio è lui, temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Sempre a pagina 54, il canto Anima Cristi. Anima Cristi, santificamere, orcus Christi, salvamere. Sancti, santificamere, orcus Christi, salvamere. Sancti, santificamere. Sancti, santificamere. Sancti, santificamere. Sancti, santificamere. Sancti, santificamere. Sanctificamere. 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 Lava me E per mi casa te ne separare A vostre maligno E prendere In ora mortis me Votrame Votrame In cielo Anima Christi santificame Corpus Christi salvame Sanguis Christi neviame Acquana Ateris Christi Lava me Lava me Votrame 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 Sit nomen Domini benedictus, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Lei è il nostro buon pastore, immagine del buon pastore. Questi giorni ce lo ha dimostrato con la sua presenza in mezzo a noi, con la sua parola. Grazie a nome di tutti. Applausi. Applausi. Desidero anche come assistente ecclesiale ringraziare innanzitutto l'Associazione Luisa Piccarretta di Corato, che ha accolto l'invito dell'Arcivescovo a organizzare questo incontro. E' un esercito di amici e di amiche, fratelli e sorelle, che si sono messi a disposizione. Ecco, ringrazio tutti e ringrazio perché questa esperienza credo ci ha cambiato anche come nostro modo di vivere l'Associazione. Ci sentiamo con un cuore più grande. Non siamo solo noi a Corato, ma siamo con voi in tutto il mondo. In questo momento vogliamo ringraziare di vero cuore la comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Corato, che con il loro parroco Don Giuseppe Tarricone e tutti i parrocchiani di questa comunità per la grande disponibilità che hanno dato non solo nell'offrirci i luoghi per poter svolgere questo convegno, ma anche per la presenza cortese, gentile, disponibile di tutti i parrocchiani di questa comunità. Grazie di cuore. Un altro ringraziamento va rivolto alla congregazione delle figlie del Divino Zelo che hanno messo a disposizione il loro convento per i nostri incontri mattutini nei gruppi linguistici e per la loro grande disponibilità. Grazie. Un grazie particolare anche ai traduttori che hanno fatto un lavoro in mane non solo nel svolgere il loro lavoro di interpreti qui, ma anche tutto il lavoro che ha preceduto questo incontro nell'avere tutte le relazioni tradotte prima che iniziasse questo convegno per rendere tutto più fluido e più veloce possibile. Anche a loro va il nostro ringraziamento. Un grazie anche all'amministrazione comunale, nella persona del signor Sindaco, il dottor Massimo Mazzilli, a tutti gli assessori, al Presidente del Consiglio Comunale che grazie anche a loro noi abbiamo potuto realizzare questo convegno per averci dato non solo il loro patrocinio ma anche tutta la loro collaborazione nel metterci a disposizione le forze dell'ordine e tutto per poter riuscire a vivere questi giorni con grande gioia. Quindi un grazie anche a loro. E insieme anche alle forze dell'ordine, alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, a tutte le associazioni di volontariato, il SER, gli Ali del Soccorso, la Misericordia, il RES, le Guardie Ambientali d'Italia, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Un grazie particolare va a Don Gaetano Corvasce e alla comunità del Seminario Minore che si sono resi disponibili per il servizio liturgico, insieme a Don Giuseppe Rizzi e a Don Mauro di Benedetto che hanno curato le nostre celebrazioni liturgiche sia di giovedì con sua eminenza e sia oggi con il nostro Arcivescovo. Grazie di cuore. Un grazie ancora al coro della parrocchia di San Giuseppe che ha animato le due messe più importanti, quella di giovedì e quella di oggi con il loro canto e ci hanno fatto apprezzare attraverso il canto e ci hanno fatto vivere la bellezza di pregare anche con il canto. Grazie anche a voi. Un grazie anche all'Istituto Professionale Tandoi, sezione alberghiero, nella persona del dirigente scolastico la dottoressa Angela Ducci perché il servizio del BREC è stato anche prestato da alcuni alunni che studiano in questa scuola e che volentieri si sono resi disponibili per questo. È stato un altro modo per coinvolgere tutte le realtà presenti nella città di Corato. Poi le aziende liquori di Francesco Mazzilli, il pastificio Granoro, l'azienda Belmonte di Tatoli Francesco e tutti i benefattori che grazie al loro contributo hanno potuto dare una mano per realizzare questo convegno. E infine ringraziamo la parrocchia di San Domenico e la parrocchia dell'Incoronata per avere anche loro contribuito con la loro disponibilità a realizzare questo convegno. E' un grazie prima di tutto al Signore che ha permesso tutto questo. Concludiamo insieme con il canto Jesus Christ, You are my life. Pagina 55 Insieme Jesus Christ, You are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, You are my life. Jesus Christ, You are my life. You are my life. Alleluia. Tu sei la nostra vita. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, You are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, You are my life, You are my life, Alleluia. En el todo caminaremos trayendo tu evangelio, testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo. Jesus Christ, You are my life, Alleluia, Alleluia. Jesus Christ, You are my life, You are my life, Alleluia.